Eccoci al botto di una calzatura, reparto dei ragazzi più giovani. Abbiamo una bella collezione di prodotti giusti e veramente a prezzi da risparmio. Abbiamo la marina militare, molto gettonata dai giovani e anche da meno giovani perché sono scarpe tra l'altro molto comode e di gran gusto, veramente. Abbiamo i prodotti della lambretta originali, molto particolari sia da donna che da uomo. Delle collezioni giuste per chi vuole fare la moda e a dei prezzi abbordabili. Perché i prezzi praticamente non ci sono più da quando sono bassi. Abbiamo la Diadora, la linea Heritage, anche la linea Sport ma questa è la linea Heritage in vari modelli, guardate, molto giusti, molto venduti tra l'altro, di gran successo. Solo parlando delle sneaker, come si chiamano oggi giorno questi prodotti, ne abbiamo veramente tanti. Poi abbiamo qua davanti a noi il reparto da Nicola Benson e dei Polacchetti, mentre qui dietro Lambergec, Timberland e addirittura la Caterpillar. E mi raccomando, vi voglio ricordare che o c'è l'offerta risparmio o c'è lo sconto alla cassa, al bottegone. Venite sulla scelta e a risparmiare. Certo, aspettiamo. Certo, aspettiamo.